Alla presenza di tutti gli attori chiamati in causa è stato sottoscritto presso la prefettura di Teramo il protocollo d'intesa redatto per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro in provincia. Un documento che ha come obiettivo quello di monitorare ma soprattutto aumentare gli standard di sicurezza in tutti gli ambiti professionali. Gli enti firmatari di questo protocollo sono veramente tanti. Provare a fare un salto di qualità, provare a intervenire prima, quindi con una sempre maggiore formazione, con una sempre maggiore cultura della legalità, della sicurezza sui luoghi di lavoro e vedere quali possono essere le questioni aperte, i settori più a rischio e vedere come fare per arrivare prima in modo che non succedano infortuni anche non gravi ovviamente. Inoltre questo protocollo prevede la costituzione di un osservatorio provinciale per la sicurezza sul lavoro. Oggi poi parte appunto un osservatorio provinciale con tutti gli enti che si riuniranno periodicamente per vedere i dati, per vedere non solo il freddo dato, 1000, 2000, 3000, 100, ma anche dove e come le modalità di come avvengono questi infortuni. Non ci possiamo permettere passi indietro su nessun settore, su nessuna tipologia di infortunio, anche se magari meno grave, ma non dovrebbe succedere nemmeno quello, meno grave insomma. Ecco su questo proveremo sicuramente a lavorarci, a rimboccarci le maniche, ripeto, tutti insieme, tutti. Un protocollo frutto di un lungo percorso volto a mantenere accesi i riflettori sul discorso sicurezza, dialogando con la parte datoriale ma tenendo ben saldo il diritto alla tutela dei lavoratori. Ma questi protocolli sono importanti perché inducono le istituzioni innanzitutto a collaborare in maniera formale e istituzionalizzata tra loro, ma poi perché costringono un po' tutti noi un ripensamento in ordine alle misure di controllo e alle attività ispettive, quindi di controllo in sé, ma anche preventive. Ricordo che l'INAIL ormai da qualche anno interviene in maniera economicamente molto significativa con finanziamenti collegati alla prevenzione, quindi i famosi bandisi rispetto ai quali c'è da parte dell'istituto un'attenzione legata anche allo sviluppo di protocolli come questo.